Allora Ale, presentaci questa challenge. Dimmi, cosa vuoi sapere? Allora, prima di tutto, vabbè, più o meno il tema. Allora, sì, è una challenge basata sugli stili di vita e l'abbiamo, diciamo, strutturata oltre che come challenge, quindi ovviamente ad obiettivi, anche come una legacy, quindi per generazioni, a generazioni. Sennò c'era poco divertimento. Questa è la struttura, insomma, come si presenta. Intanto vedete il pdf, lo sto facendo vedere. Questa, diciamo, è la pagina più importante, forse. Introduce un po' tutto e ci sono soprattutto le note che poi andrete a ritrovare nel corso della challenge, ovviamente, quando magari vi dobbiamo dire qualcosa, se tu vedi nota e c'è il numero. Comunque, la Lifestyles Legacy Challenge, vabbè, come già Ale vi ha detto, mod no, no trucchi, il cast full edit mod, invece, va bene. Come potete vedere dal pdf, ogni generazione si focalizza su lo stile di vita che ci sono su The Sims. E infatti avete sacanovista, socievole, unitario, ogni generazione ha un suo background, poi andremo a leggere quello della prima generazione. Le aspirazioni, i tratti e le carriere sono già scelte, vi dice, insomma, come iniziare, eccetera, eccetera, e gli obiettivi. Una cosa importante, ovviamente noi abbiamo fatto una challenge che esplora un po' tutto, perché abbiamo praticamente tutto noi. È ovvio che laddove voi abbiate, magari, meno pacchetti, meno DLC, insomma, cose che magari non avete, perché non avete quella espansione, potete tranquillamente sostituirla, ad esempio l'aspirazione o la carriera, con, magari, qualcosa che si avvicina. Iniziamo a leggere la prima, così poi possiamo partire a giocare. La prima è una generazione che va a messa a Willow Creek, lo stile di vita è stacanovista. Il background, adesso ve lo vado a leggere, i tuoi genitori sono morti. Già comincia bene, diciamo. Eh? Già comincia bene. Esatto, già comincia bene. Però ci sta, perché comunque il primo simmino della prima generazione, cioè, tu i genitori, è difficile che li fai. Cioè, adesso sì, esatto. Quindi, ci sta. Ora sei da sola, perché la mia simba è femmina, e puoi contare solo sulle tue forze. Avendo vissuto sempre in povertà, o quasi, adesso hai voglia di riscattarti e di creare il tuo impero. Vuoi essere ricca? Sei sempre puntuale al lavoro e raramente prendi giorni di vacanza. Per te il lavoro è fondamentale, ma vuoi anche una famiglia ricca e felice, così che quello che tu non hai mai potuto avere, lo potranno avere i tuoi figli. Quindi, vabbè, l'aspirazione è favorosamente ricco, i tratti sono ambiziosa, materialista, amante della famiglia, carriera, uomo d'affari. Come iniziare? Iniziare da una starter a Willow Creek, si parte da giovane adulto. I diversi obiettivi sono, vabbè, massimizzare le abilità, logica, carisma, scrittura, arrivare a 200 simuleon, visitare la palestra almeno cinque volte, sposare un sim con il tratto goffo. Ma il tratto comunque lo possiamo cambiare, giusto? Qua potete scegliere se andare in giro per gli scenari e cercare una persona che abbia il tratto goffo, oppure puoi crearlo nel CAS, tranquillamente ti crei anche il fidanzato fidanzata, quello che vuoi, o altrimenti incontri un qualsiasi sim nello scenario che ti piace, non hai il tratto goffo, usi CAS Full Edit Mod, gli cambi il tratto, gli metti goffo. Poi mi dice andare in campeggio almeno una volta a Granite Falls, avere un migliore amico e almeno 50 conoscenze e farti odiare da almeno 10 persone. Parecchio, c'è parecchia carne al fuoco, devo dire. Ci si può sposare solo quando la carriera è almeno livello 2, prima di avere i figli bisogna avere 30.000 simuleon, massimo due figli. E poi vabbè, bisognerà scegliere tra i due figli quale porterà avanti la generazione. Ovviamente se nasce prima un figlio e poi nascono due gemelli va benissimo. Voglio rispondere alla domanda di Marianna che chiede, può arricchirsi solo col lavoro o anche dipingendo il giardinaggio? Anche dipingendo e con il giardinaggio. Infatti nella pagina iniziale dell'introduzione c'è scritto che i sim possono fare soldi anche con gli hobby. Io ho messo la mia starter. Bella la starter, bellissima. Sì, questa bell'inienza. È molto bella, infatti l'ho messa per questo perché era bellissima. Infatti vabbè ve la faccio vedere al volo, comunque ho fatto la stanzetta e il bagno. Allora, io con cosa devo iniziare? Uno, trovarmi un lavoro giusto. Il lavoro è ramo investitore. Quindi donna d'affari. Yes. Forza. Ah, lei si chiama Carol Sentry. Così, giusto per dirvelo. Carol. Bella. Mi piace Carol. Carol, molto elegante. Eh sì. Era quella più elegante tra quelle che avevo in galleria. Ed è stato difficile trovare. Però va bene così. Allora. Donna d'affari? Sì. Ok. Perfetto. Ok. Il ramo investitore me lo farà scegliere dopo? Dopo. Sì. Ok, va bene. Quindi io andrò a lavorare fra 24 ore e devo compilare dei rapporti, mi dice. Quindi in realtà inizialmente mi sa che mi devo concentrare sul lavoro, penso. Anzi, in realtà no, col cavo. Io vado già in palestra. Aspetta un attimo. Allora, compilare dei rapporti. Infatti è domenica. Esatto. Così almeno mi levo dalle balle già sta roba e devo andare cinque volte in palestra. Ce l'ho un computer? Enza, hai messo un computer? Non credo, adesso è una starter. Vabbè, magari vai in biblioteca, tanto devi fare in biblioteca. Allora. Ok. Quando diventi ricca, ricchissima, ti compri un bel computer. Ah, ecco, brava, è vero Franci. Allora, io ovviamente sempre per una questione di live, ho aumentato i sim che si possono trovare nei lotti. Ovvero, se vado al bar non ci staranno tre sim in croce. Ok. Ho messo tipo 80, una cosa del genere. Non ne arrivano 80, ovviamente. Però si riempie, si popola tantissimo ed è bellissimo. Ah, bello, bello, bello. Perché a questo lo potete usare. Sì, sì, sì. Molto bello. Ma scusa, ma questa qui tu già la conosci? No. Ah, perché è famosa. No, vabbè. Lasciala stare quella famosa. Cioè, molla la proposta. Io odio i sim così. Giustamente Pollicina dice che i soldi... In miei sono famosi, ovvero, i due. I soldi serviranno per altro. I soldi serviranno per altro. I soldi serviranno per altro? No, servivano, dice non ho messo il computer perché sembra una parte. I soldi servivano anche per altro. Brava, brava. Che poi io in realtà ho 3.000 simulion. Ma come me ne avevo 3.000? Vedi Nancy, è esatto, uno dei motivi per il quale abbiamo creato la challenge, comunque mi piace che nelle challenge mi costringete ad uscire di casa, perché i miei sim vanno al lavoro e tornano, e infatti, è proprio questo il bello. Ah, bravo Vale, ci sei arrivato a 30.000, bravo. Bravo Vale. Sono arrivato finalmente a 30.000, ah, ci sta, le soddisfazioni. Sì, non è facilissimo, eh. Eh, immagino. Cioè, io per esempio all'inizio lo facevo scavare in giro e trovava, sai, gli oggetti, queste cose qua, in modo che così almeno raccimolava qualcosa. Poi mi fate dipingere, andate. Ah, beh, quello sì. Un po' schiavi, capito, con la frusta, così. 10 cavalletti tutti insieme, uno piccolo all'altro. È vero. Come fa Fede? Fede fa così. Va bene, va bene. Fede mette i cavalletti e poi dipinge. Bene, so bene. In realtà... Anche i miei sim... Vai, Shira, scusami. No, niente, tranquilla. Secondo me la cosa più remunerativa che a me piace di più è scrivere libri. Ah, perché poi... Infatti la moglie del mio sim scrive libri. Sì. È giusto. Ma perché quello è bellissimo, perché tu scrivi libri e poi ti rimane... Cioè, partono soldi così senza fare niente, poi. Non devi neanche più dipingere. Ah, è vero. È vero. Ma quanta gente c'è, allora? Partino che dice che i suoi sim stanno sempre dentro casa. Fun fact, Tappino, 84, è un... Diciamo, è appassionato dell'otto 64 per 64 a... Come si chiama? Del Fall Valley. Lui costruisce sempre là, lo riempie, fa una mega villa e ci fa dentro la sauna. Il cinema, la sala giochi, la sala giochi, la sala giochi. Io l'ultima build l'ho fatta lì, ma mai più. Hai capito, Tappino? Cioè, mai più, mai più. Cioè, se lo fai sempre, Tappino, cioè... Oh, mamma. Lui lo ama. Lui lo ama. Cioè, che poi ha una bella visuale, eh. Cioè, la vista è splendida. Però, ragazzi, 64 per 64, paura. Mamma mia, io non costruisco mai. L'erminia dice, avete letto dello staff gratuito? Sì, sì, sì. È divertimento... Cos'è, in giardino? È gratuito su PCXbox. Non su PlayStation ancora. E niente, lo potete prendere. È carino, in realtà è carino. Alla fine, cos'è, tipo gli scivoli acquatici, quelli bassi. Sì, sono scivoli. È stracarino. Sì, è carino. Ah, Furoxia, invece, builda solo a stento, nei locchi 20x15. Perché tu fai solo sim. Cosa fai, Mattia? Scusami. Fammi capire. Ma non è vero. Tu costruisci per il save file. Dai. Comunque, quello è a costruire. Allora, quindi, voi questa challenge l'avete finita? Oppure... Ancora no. No. Ok. Quindi ancora è da testare completamente. Sì. Io oggi ho fatto passare d'età il... Il... Il toddler. Da toddler lo ha fatto di dittare il bambino per disperazione, perché è uscito questo bug, mi è uscito. Sì. Che lo mettevo a dormire, si svegliava dopo tre secondi e c'ava sempre sta barra rossa. Ah, cavolo. Quindi, sì. E tra l'altro anche da bambino me lo fa, quindi gli ho dovuto truccare i bisogni. Adesso indagherò cos'è che mi fa fare questa cosa. Anche se forse è un'idea. Ce l'abbiamo, però... Ce l'abbiamo. Ce la teniamo per noi, però va bene così. Ok. E... Ma, ma, ho già conosciuto un sacco di gente questa. Eh, no. Io mi presento a chiunque, ragazzi. Sì. Adesso vado in palestra e mi presento a... Scusami, vai. No, no, no. Vai, tranquilla. No, no. Dicevo che io sto stando di diventare adolescente. Perché il mio è diventato un bambino, adesso diventerà adolescente e piano piano lo manderò all'università. Gli ho già creato la fidanzata, però c'è già tutta la storia per la seconda generazione, quindi dai, fa bene. Ah, ok. Perfetto. Ok, allora aspetta. Picci deve fare la seconda, mentre Ale la... Sto ancora alla prima, ma diciamo che considera che la prima generazione io ho fatto tutti gli obiettivi già. Ho massimizzato la carriera, ho fatto tutti gli obiettivi, ho conosciuto 50 persone, migliori amici, 10 nemicizie, tutte le abilità, insomma, al massimo, massimizzate. E quindi niente, dopo solo fa crescere il figlio, fondamentalmente. Ok. Ma qual è la... Noi che abilità dobbiamo fare? Logica, carisma e scrittura. Ok, perfetto. Allora forse... Dove facciamo gli investitori? Forse servirà logica. Sì, serve logica e carisma per... Ah, tutte e due? Per uomo da fare, sì. Ok. Allora forse vi metto a parlare un po' con la gente. No, guarda, mettiti qua. Fai così. Esercitati nei discorsi. Allora, vediamo un po'. Allora, Irene dice che il 30x20, secondo lei, è della grandezza perfetta. Per me è 40, tipo 40x30. Oddio, io non lo so, perché io so talmente tanto in qualsiasi tipo dell'otto che non so più nemmeno qual è il mio preferito. Ah, per te è uguale, non hai il preferito? Ma la palestra, scusatemi, scusatemi, ma la devo visitare basta o devo farci qualcosa? No, no, devi allenarti. Ah, ok, vabbè, allora mi allenarti. Allora, scusate, è perché qua c'è scritto, devi aver visitato almeno cinque volte la palestra, per me era entro ed esco. E basta. Almeno su the tips, non la pigrizia. Dai, dai, almeno qua lo fai dello sforzo, lo fa lei, dai. Ma non devo fare l'abilità? No, non se ne frega niente. Ok, vabbè, la faccio fare una sessione. La fai allenare un pochetto, la sfrutti come posto per fare amicizie o inimicizie. Perfetto. Allora, in effetti, magari dovremmo scegliere un amico, gradisce la forma fisica, vabbè, gradisce la forma fisica, va bene. Se te piace, se è proprio. Giustamente, Hermina ti dice, la vuoi facile, Sheila? Toccate fuga. Eh, sì, sì. L'idea era quella, l'idea era quella, però, ok. No, vorrei fare... Ma pure andarci, non allenarti e fare solo amicizia. Vorrei fare, effettivamente, facciamo amicizia con un po' di genere. Mattia, oggi ho voglia di entrare in palestra e andarmene. Perché voi non lo fate? Cioè, non funziona così? Ah, perché esistono le palestre? Ah, beh. Solo entrare in palestra e uscire per, insomma, essere in forma. No, comunque vorrei fare amicizia con... Lascio solo pensare. Eh, esatto, magari fosse così. Sai che bello? Eh... Mi sei baggato a sta roba. Accetti il cambiamento e non vedo. Eh, vabbè. Ah, Dio, cosa è successo qua? È affiliato? Affiliato. Affiliato. Eh... Ah, si è tornato, ok. Mamma mia. No, volevo fare amicizia con qualcuno, ma... Non... Boh, non mi ispira nessuno in palestra. Vabbè, tanto, comunque, 50 conoscenze le devi avere. Quindi vai, butta là, conosci persone. Poi, se ti ispira qualcuno... Mi ispirava Jackie. Dove cacchio è andata Jackie? Boh, vabbè. Ecco la Jackie. L'hai vista? No, non lo so. Dov'è? Vabbè, dai, allora. Buttiamoci su... Su Priglia. Allegra. Anzi, aspettate un attimo. Fatemi aprire il mio club. Entra in un club. Il cacchino palestra è qualcosa che si mangia. Sempre, sempre, sempre. Lui sempre. Perché tu devi sapere, Scilla, che taccino, lui mangia, pranzia e cena, fa dei pranzi e delle cene gourmet, praticamente. Oddio. Sei cuoco. Ti piace cucinare. Io odio cucinare, ragazzi. Davvero? Sì? No, mi piace. No, no, no. Io amo cucinare. Ah, cazzo, però, requisito club Goffo, lei e... Bra, lei non ci rientra. Goffo, metti materialista, che non so. O ambizioso, così lei ci rientra. Ok. Lei è materialista, ambiziosa e... Amante della... Mettiamo un amante della famiglia. Yes, amante della famiglia. Che magari è meglio. Facciamo così. Dove sei? Dove sei? Amante della femmini. Femmini, perfetto. Eccola. Mettiamo un altro requisito, che magari i vecchietti... Magari no. Possibilmente. Basta ricordarci le melanzane. Non voglio chiedere. Leggo solo il commento. No, ragazzi. Basta ricordarci le melanzane. No, voi non... Allora... Avete presente quando prima vi dicevo che sono distratta, no? Sì. Allora, stavo facendo le melanzane al forno. Le scordate? Sì. Le ho cucinate, perché dovevo lasciarle lì a raffreddare, no? Perché le... Sai, le ho divise a metà per poi prendersi col cucchiaio... Ah, sì, la volpa. Esatto. Sì. E io me le sono scordate là. Me ne sono ricordate... Cioè, dopo tipo due settimane, ho aperto il forno. Oh, Dio! E c'era un altro bioma là dentro. C'era tutta muffa, ero uno schifo, ragazzi. No, mio Dio! E niente, è andato così. Allora, io... Sì, che il 2007 ha rischettato Bevi che ti fa bene. Oh, ok, grazie. Allora, Tattino dice che lui ha frequentato, sì, l'alberghiero, ma è la mamma che lo vizia. Ah... Io... In chat c'è Nancy, che piace cucinare. E anche lei... Molto brava. E anche Iwa, in realtà. Non so se c'è. Ah, Beyoncé Real, grazie per il follow, benvenuta. Esatto, anche Nancy ha fatto l'alberghiero. Io intanto mi scelgo il mio futuro marito. Anche a me piace cucinare. Anche a me. E' il piatto preferito che ti piace cucinare? A me? Mmh, a tutte e due. Non so. Sì. Oh, sei fissuto. Io amo tantissimo fare quei dolci, proprio casalinghi, tipo il ciambellone, la torta di mele, la grustata. Sì, pure io tutto. Cotti. Io i dolci faccio proprio cagare. Peggio, peggio. Però il piatto salato, comunque, in generale... No, però tutti... E le paste, le paste ripiene, le paste normali. La pasta è buona. Ma mettiamo Simon. È ok. Stai scegliendo il marito? Sì. Mariana, però anche a me piace più mangiare che cucinare, onestamente. Sto decidendo, tra i gocchi. Io sto a dieta, cioè, ve lo vorrei solo ricordare, eh. Ah, sì, è vero, è vero. Ah, mannaggia. Ecco. Ci sta. È vero. Quindi, se avete fame, se avete fame di roba verde, tipo insalata, perché è dura. Kyle, ma Kyle, Kyle, son... Mamma, questo qua, cioè... Potrei... Eccola, ti sono innamorata, guardala. Potrei! Che è andata. Beh, non è male. Eh, no, però lui è... Brent, come si chiama quello? Brent, il marito di Brent. Ah, non ce l'ho qua, perché non è goppo, mi sa. O forse sì, ma non è amante della famiglia. Ah, perché ti ha dato quelli... Tutti maschi nel club, diciamo. Kyle, credo sì, è quello di... Cos'è? Cresciamo insieme, che ogni tanto viene a farti visita a casa. È lui, è lui, sì, è Kyle. È lui, maledetto. Eh, ci scrivo a sbando, ok, perfetto. Esatto, sì. A posto. Io ho detto già, io raduno. Così almeno socializzo. Un nuovo film? Un nuovo film di trefini cinema, le melanzane mutanti, rezzia di stile rezzini. Oh mio Dio! Sto male! No, ragazzi, cioè... Passino, passino. No, no, Marianna, io non credo che qualcuno si svegli... Cioè, sì, qualcuno esisterà che si alza e dice Ah, oggi ho voglia di un salato, sicuramente i vegani. Cioè, comunque... Cioè, comunque... Ma chi sono quelli del mio club? Ok, visti, visti. Ma che è bene? Allora... Kyle non c'è, vabbè. No, Ale. Perdonami, se leggo male, chiede in che cosa ha costruito la challenge. Prego. Grazie. Fa una left. Ok. Fa una left. Allora, vuoi spiegare i tuoi picci? Yes. Allora, è una challenge di dieci generazioni basata sugli stili di vita, principalmente. Ogni generazione ha un stile di vita da acquisire. Partiamo in particolare dalla prima generazione che richiede lo stile di vita staganovista. Quindi, sostanzialmente il tuo sim o la tua sim, insomma, quello con cui scegli di giocare, è povero, poverino. È rimasto da solo, non ha più una famiglia, non ha più i genitori e vuole creare il suo impero. Quindi si trasferisce a Willow Creek in una starter colina e da lì inizia la sua vita. Quindi trova lavoro come uomo o donna d'affari e andrà avanti con la sua vita, si innamorerà, si sposerà, sarà dei figli, insomma. Così. Andando avanti per le generazioni, ogni generazione ha i propri obiettivi. Diciamo che l'abbiamo fatta un po' cattivella, un po' difficilina. Eh, adesso vediamo. Chi l'ha provata cosa dice? Io ovviamente sono all'imagine. che l'ha provata. Ok. Noi non possiamo dire. Cosa dite? Cosa raccontate? È difficile? Non è difficile? Io intanto parlo del mio asbando. Allora, Mariana. Guardate asbando, guardate. Bello Kyle. Bello Kyle. Mi sa che l'abbiamo trovato. Sì, sì, sì. Il budget con cui devi partire in realtà è quello che ti rimane una volta che hai comprato la starter. Esatto. Per una starter da 20.000 simoleon partivo zero. Esatto. La mia era... La mia era forse 18.000 adesso, forse meno, adesso non mi ricordo. La mia era 9.995, quindi sono rimasta con 5 simoleon. Allora, Fran ci dice divertente. Ok. Hermie, io sì, mi piace molto per adesso. Ok. Beh, secondo me un po' è difficile. Cioè, comunque ti costringe, tra virgolette, a interagire tanto. Ok. Comunque loro due c'hanno meno. Ah, con Kyle? No, perché dice meno? Ah, vabbè, è uscito uno. È uscita l'interazione, però è arrivato a 21. Ok. Allora, Nelzi, per questa cosa del campeggio, se non hai il pack del campeggio, puoi andare al parco, dieci volte se non sbaglio. Ah, no, ho fatto a rivederci, cazzo. Puoi, insomma, sostituire il campeggio con il parco. Sì, che poi c'è scritto nelle schede, quindi... Sì. Se le leggete ho trovato tutto, alla fine. Ci so. Ehm... Allora, è vero. Allora, questa cosa è molto vera, quella che dice Valerio. Dice, non vedo l'ora di avere il primo figlio, così mi ci posso affezionare. Perché per quanto uno possa essere affezionato effettivamente al sim della prima generazione, però non l'hai visto crescere, cioè tu hai preso e l'hai creato. Invece poi, quello della seconda generazione o quella della seconda generazione, in realtà tu la vedi crescere. Quindi, almeno a mezzo così, cioè io mi sono affezionata. Sì. Ah, dite che tipo ai bambini vi affezionate di più che al primo. Sì. Sì. Nelzi, non ti preoccupare, te lo diciamo noi senza leggere le parentesi. Sì, ma io le cose tra parentesi non le leggo. Ma non ci credo nemmeno. Vabbè. Comunque, ok. Ehm... Avete prevedo di fare altre challenge? Comunque... Yes. Allora, mi fa... Cioè, mi è sembrato strano che appunto Alessandra, essendo una builder, si sia messa a creare questa challenge. Allora, c'è una cosa che io in realtà dico sempre, che per essere dei bravi builder, diciamo così, devi anche giocare. Perché comunque, generalmente, chi costruisce crea le case e gioca. Sì. Sì, sembra che tu le faccia funzionali. Esatto, esatto. Quindi devono essere funzionali in realtà. Poi ci sta pure che... Cioè, io per esempio ho il mio salvataggio con le case tutte cc e quelle ovviamente io non le pubblico nemmeno perché tanto comunque... Però ecco, in generale dovrebbero essere funzionali. E quindi non c'è miglior modo di renderle funzionali se non sapere come farle funzionali. E quindi bisogna giocare un pochino. Allora, in realtà, come ho detto prima appunto, cioè io ho deciso di creare una challenge proprio perché mi sono affezionata alla Rags to Riches. Ho detto, ok, facciamolo. Perché ho trovato la mia dimensione di gioco. Cioè, ho capito che per affezionarmi a un gameplay devo avere degli obiettivi. Ci sta, ci sta. Io tieni conto che alla Rags to Riches penso che sia stata la prima challenge a cui ho giocato. E' stata divertente. E' la mia anche. Sì, la Rags to Riches in realtà è molto divertente. Anche perché all'inizio, soprattutto se sei proprio all'inizio, non sai bene come sopravvivere soprattutto i primi giorni. Quello è tostino. Poi vabbè, ovviamente... Però è bello, è stimolante. Sì, sì, quello sì. Poi vabbè, la rifai due, tre volte, diventa abbastanza veloce. Perché ormai sai già cosa fare, eccetera, eccetera. Sheila ascolta bene che cosa? Cosa è che devo ascoltare? Il fatto che Ale abbia detto che le build devono essere giocabili, immagino. Ma le mie build sono giocabilissime, non capisco. Tutta sta roba, cioè, boh, vabbè, io testo ogni volta con i miei sim, diciamo, ma è un po'. Ciao, Manuel. Ciao, Manuel. Ciao, Manuel. Ale hai ragione. Ma a volte voglio solo fare case belle senza pensare se il mio stupido sim riesca o no ad arrivare alla radio per ballare. Vabbè, sì. Io, per esempio, non ce l'ho questa cosa. Che cosa? Cioè, nel senso, io da sempre faccio le case funzionali. Ma tu ti rendi conto che io non avevo attivato la live di TikTok? Ma ti rendi conto che i problemi mentali devo avere? Cioè, ragazzi, cioè, sono passati 40 minuti. È ripresa, è ripresa. Cioè, io, boh, vabbè, ragazzi, ok, vabbè, partita adesso. Dai, facciamo un pittadino. I problemi. Nessuno se ne è accorto, nessuno se ne è accorto. No, no, ma neanche il moderatore, nessuno mi ha dato un cazzo. Cioè, devo dire, boh, non è strano che non sia su TikTok. TikTok, no, vabbè. Ah, guarda, questo va l'avessimo apposta. Devi andare, devi andare proprio al parco, all'ottoparco. Comunque, questo gioco mi so che si è, si è buggato. Ah, no. Dici, un bug? Meglio così TikTok è il male. Via, da non dire così. Anche ieri non eri su TikTok. Sì, ho capito, ma ieri stavo facendo l'horro, ragazzi, l'horro stavo facendo. Vabbè. Bello. Cilla, la nuova fata smemorina. Mamma mia, ragazzi, cioè, che vita. Mi sa che devo chiudere. Chiudiamo. Anche, è vero, dice, credevo fosse per scelta. Ah, sì. Ah, ma loro sono contenti quando non ho TikTok aperto. No, lo vedi? Che comunque è proprio quella mod che fa questa cosa. Sì. Che mod è, l'MCC? No, la BBB. La BBB. Quella nuova. Però guardate, cioè, io ci sto giocando. Tu ci stai buildando. No, no, ci sto giocando. Sto giocando, sto giocando. È da un po' di giorni che ci sto proprio giocando a una mia personale, con gli obiettivi, eccetera, eccetera. E non mi capita sta roba. Ok. Adesso io non ho salvato. Grande, ragazzi. Vabbè, dai, era solo andata in palestra, avevi fatto il club. Il mio club, i miei sbandi. Adesso lo dovrò rifare. Eh, diciamo che parte bene, dai, Sheila. Dai. Allora, però c'è da dire una cosa, che io sono abituata a far socializzare tanto il mio sim. Ok. Quindi per me è quello... Io non sono... La cosa per me è difficile fare i bambini, in realtà. Tutto il resto mi viene abbastanza... Cioè, ce la faccio. Perché è quello che faccio di solito. Ok. Ok. Beh, allora, già parti avvantaggiata, dai. Riprendere. Sì, forse questa è la challenge per me. Ah, ah, ah. E l'unica... Allora, voi avete un massimo di figli che potete fare, ma non è che li dovete fare per forza, eh? Cioè, uno, uno basta. Ecco, ecco, è vero. Ecco, cosa dovevo chiedere. Io che ne farò uno. E va. Però non glielo diciamo, che poi in altre generazioni ne devi avere tre. Il massimo qual è? Quattro, forse. Mamma mia, ragazzo. Allora, ora mostro lo dico, eh. Nella mia personale ho fatto quattro bambini, quattro. Devo dire che sono riuscita a gestire. Però massimo, eh, quattro figli. Massimo quattro figli, eh. Ok, ci sta. Cioè, ripeto, di quattro figli puoi averne pure uno. Però ce n'è una in cui, per esempio, ecco, qua, per esempio, nella terza generazione, dice, devi avere una dinamica familiare stretta con almeno due figli e il partner. Ok. Quindi, comunque, devi averne almeno tre. Nancy che ti dice quattro lattanti e le... No, quattro... Io ne ho fatti quattro, però erano tutti... Cioè, nel senso che quando, tipo, avevo già la bambina, facevo la neonata. Perché... Perché se no... Bravo. E infatti io così faccio. Io faccio così. Ma non ho fatto neanche il mio club, ragazzi. No, invece sì, il club l'ho fatto. Sì, l'ho fatto. No, ti sei salvato tutto, eh, perché stavi qua quando sei uscita. Ok, ok, ok. Ho fatto amicizia, va bene. E anche, diamo un po' con lo scoglierino, in una stagione, io, le serie tv, proprio, ciao. Lei in una stagione, c'ha... Purtroppo, c'hai questa moderatrice, le guanda, te la devi tenere. In una generazione, se ti nascono gemelli, visto che devi avere un figlio solo, in una generazione, l'altro lo devi far adottare, per esempio. Ah, ok. Quindi siamo state un po'... Ok. Un po' cantine. Però è carino. Allora, raccontatemi le altre generazioni. Perché tanto noi adesso vedremo la prima, e quindi per le altre ci vorrà un po' di tempo. Eh, Marianna, sì, è vero, è brutto, ma è molto minima con quello che sarà la personalità di quel sim della quarta generazione. Ci siamo sentite male anche noi, credimi, però effettivamente... Però sono stata io, però. La cattivona. Sì. E sono una madre, comunque, nella vita reale. Forse vado ben qui. Non sto scherzando. Infatti l'ho pensato anch'io, ho detto, oddio, forse c'è qualcosa che non va. No, allora, diciamo, la seconda generazione, andiamo a Oasisprings. Ok. Lo stile di vita è quello socievole. Sì, perché poi il bello è che ogni generazione cambia lo scenario. Molto bella questa cosa. Vai, scusami. Sì. Sì, sì, no, vabbè, vabbè, perché volevamo comunque movimentarla un po'. E dare l'opportunità, appunto, di girare vari scenari, perché spesso uno ha lo scenario preferito e gioca sempre là. È vero. Io, per esempio, vado sempre o a Hanford, cioè, o a Brindleton, cioè, quelli sono i miei scenari. Io gioco sempre a San Myshko. Io ho Sulani, raga. Ecco. Ah, anche Sulani, brava, esatto. Quindi, questo è Oasisprings, la seconda generazione. Ok. E, diciamo che... La carriera è la legge, quindi potete scegliere anche di mandarlo all'università, per esempio. Non c'è scritto esplicitamente, però potete farlo. Mentre la prima generazione parte, diciamo, con pochi soldini, la seconda deve trasferire 30.000 Asimoleon dai fondi dell'unità familiare. Quindi si prende i 30.000 Asimoleon. E, tra l'altro, deve scegliere una casa del valore di almeno 50.000 Asimoleon. E qua c'è scritto vedi note 4 e 5, quindi dovete andarvele a leggere. Ok. Sì, perché diciamo che la seconda generazione viene da una famiglia ricca. Quindi, ovviamente, la casa magari gliel'hanno comprata ai genitori, dire no? Eh sì, perché stiamo parlando della seconda, giusto? Yes, sì, della seconda. La prima, giustamente, ha l'obiettivo di diventare ricco, quindi ha senso. Esatto. Sì, esatto. Ma tu hai già finito di dormire, 5 del mattino? Vabbè, ok. Vai, Ale. Quindi, considerando che l'aspirazione della prima generazione ti obbliga, diciamo così, ad arrivare almeno 200.000 Asimoleon guadagnati da te, quindi non dei fondi dell'unità familiare, ma devono essere 200.000 Asimoleon che tu stesso in prima persona hai guadagnato. Ok, perché, te lo dico, ok, praticamente è l'obiettivo dell'aspirazione. Brava. Guadagna 200.000 Asimoleon. Ok, perfetto. Sì. Mentre qua, diciamo, nella seconda generazione si parte molto più avvantaggiati, giustamente. Però qua, per esempio, nella seconda, prima di avere i figli deve arrivare almeno a 50.000 Asimoleon, però partì da 30.000, quindi diciamo che è abbastanza bilanciata la questione. Sì, anche perché così magari nella seconda hai già una casa un pochino più… Di un certo tipo. Ecco. Oh no. Ci sta. Sì, esatto. Che tra l'altro vi abbiamo dato la possibilità sia di, ovviamente, scaricarla dalla galleria… Ah, quindi già sono… si possono già scaricare… A me, a saperlo, scaricavo la vostra… Quale? Ah no, scusatemi. No. Ho detto una cazzata. No, nella seconda. Ah, dalla galleria di quel valore lì. Ok, no, ok, pensavo che voi avesse preparato delle case. Invece no. No, 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 no. Ok, no, allora, guarda. Di galleria in generale, ok, ok, scusate. Sì, esatto. Ok, ok. Cioè, allora, per esempio, qua, nella seconda generazione, a un certo punto c'è scritto scegli una casa del valore di almeno 50.000 Asimoleon. Ok. Poi c'è scritto, vedi note 4 e 5 della pagina dell'introduzione. Le note 4 e 5 dicono questo. La nota 4 dice, quando vi è richiesto di utilizzare il trucco pre-realization, state on, è perché il sim o la sim devono avere i simoleon, cioè, deve avere i simoleon di partenza intatti. Esatto. Quindi se io ti dico, prendi 30.000 simoleon dall'unità familiare, tu quelli li devi avere, quindi la casa la devi comprare col trucco. perché mi serve che tu abbia quei 30.000 Asimoleon. Ok. La nota 5 dice, quando vi è richiesto di utilizzare il trucco pre-realization, state on, e volete buildare voi la vostra casa, dovete entrare in modalità costruisci, senza che il sim o la sim sia nell'otto, così da avere un budget illimitato per creare la vostra residenza. Ma tu c'è gente che mi chiama? Ok. Quindi. Ci sta. No, io avevo capito un'altra... Non so perché ho pensato a sta roba, raga. Allora, intanto avevo letto... Io ho letto che Tia... È una... Sì? Filtratelo. E ho letto Vittoria che chiede di che stiamo parlando. E allora, praticamente c'è questa live, stiamo... Sto iniziando una Lifestyles, la Lifestyles Legacy Challenge, che è una challenge nuova di Zecca, creata da appunto Alessandra e Picci che sono con me, che è... Quando è che è uscita? Qualche settimana? Sì. Comunque da pochissimo. Sì. E... Che devo dire che, secondo me, è molto interessante. Quindi, se ormai avete provato tutte le challenge possibili, io vi consiglio di provare quella. Esatto, c'è questa. Esatto. Guardami poi, vi ho dato il link, trovate le schede. E niente, comunque adesso io la porterò live, così potrete anche vederla live. Ma è uscito un pack gratis? Sì, Ari, è uscito divertimento in cortile. Oh, il mio primo giorno di lavoro, ho guadagnato cento... Ma io sono già tesa, hai fatto un giorno di lavoro. Allora, preparati. Preparati. Preparati perché per almeno due o tre scalini della carriera, diciamo così, lei sarà sempre esaurita. Mamma mia, ragazzi. Chiamiamo gli asbandi. Ok. Adesso lei fa la selezione. Sì, sì, sì. Questo diventa... No, tu sì, tu no. Questo diventa uomini e donne, tipo... Ah, ecco. Guardali! Eccoli che entrano loro. Allora, che challenge Anna? Allora, Carol. Chiama Lifestyle Legacy Challenge. Mazza, oh. Vedi, vedi, proprio come le donne, comunque. Lei è seduta. Carol, perché c'è asbando numero uno, asbando numero due. Esatto. No, a me, tipo, piace... Io adoro usciamo insieme, ragazzi. Cioè, per me, l'espansione... Una delle espansioni che dovete avere, perché a me sta cosa dei club piace troppo. Qualunque cosa io devo fare in casa, che sia fare i compiti, che sia uscire, che sia guardare la tv, io attivo il raduno, così lo facciamo tutti assieme, no? E... E diventa pratico, capito? Io faccio anche per la famiglia, quando ho magari famiglie, faccio le riunioni di famiglia, faccio un club famiglia, è molto più facile. Anche, anche. Allora, Anna, trovi le regole? Mi sembra che prima Nancy le aveva messe. Sì, sopra. Sennò, punto esclamativo, Lifestyles. Adesso i moderatori ve lo lanciano, vi lanciano il link in faccia. Allora, diciamo che, tra l'altro, abbiamo cercato di fare, non so, anche un po' tipo di... Gli alti e bassi nella challenge, perché, per esempio, poi andiamo nella terza generazione, che è Newcrest, che, per antonomasia, è uno scenario vuoto, ok? Quindi non ci sono case. Potete metterle, potete popolarlo, ovviamente, potete mettere le case, ma, per esempio, in questo caso, il sim che si trasferirà a Newcrest, quindi il figlio della seconda generazione, o la figlia della seconda generazione, dovrà partire con 2000 simoleon, che prende dall'unità familiare. Aspetta, la seconda. È un po' una raxuricis. La terza. Ah, ok. Ah, come mai la terza diventano poveri? Perché, se vuoi, vi leggo il background. Sì, sì, vai, vai, vai. Aspetta, però, Enza... Enza, potevi mettermelo un tavolino dove mettere sto cavolo di computer? Ah, no, guarda, l'ho detto qua. E niente, lei ce l'ha questo computer, lei vuole un computer, ok? Esatto. Cioè, ce l'ha... Allora, cosa... Perché... Qua, ok. Vabbè, scusate, scusate, è andata, no, vai. Allora, presente la terza generazione dice hai vissuto in una famiglia senza amore o poco, non sei in buoni rapporti con i tuoi genitori, e per questo hai deciso di racimolare qualche simoleon da qualche lavoretto fatto. Sono i tuomila simoleon trasferiti dai fondi dell'unità familiare e trasferirti in un quartiere nuovo. Quello che sogni è avere la famiglia meravigliosa e piena d'amore che non hai mai avuto e una bella carriera che hai scelto con il cuore, ma devi prima riuscire a sistemarti. Tant'è che, come aspirazione, ha grande famiglia felice, i tratti sono buono, fedele e amante della famiglia, e la carriera è il medico. Ah, bella quella carriera. E infatti qua ci sono massimo quattro figli, perché comunque lui vuole una grande famiglia felice. Quindi non gli può far solo un figlio. Eh beh, sì. E per esempio c'è uno degli obiettivi. Eh vabbè, dai, però ti diverti. No, in realtà ci sta, ma guarda che ci sta tanti. Secondo me questa challenge è veramente bella. Avete fatto un lavoro stupendo, direi. Ma guarda è uscita veramente così, eh. Sì, così. Evidentemente eravamo ispirate, non lo so. Può essere, può essere. E tra l'altro, in questa qua, nella terza generazione, dove devi essere un medico, tu hai come obiettivo quello di scoprire il sesso di uno dei tuoi figli toccando il pancione, per esempio. Ah. Che è una cosa che tu puoi fare arrivato a un certo punto della carriera di medico. Ok. E quindi diciamo che è molto orientato alla famiglia. Mmh. Però abbiamo messo anche qua una piccola difficoltà, perché poi, ovvero, che bisogna avere la dinamica familiare stretta con almeno due figli e il partner. Mmh. Noi preferiremmo che con il figlio o la figlia che si sceglie per la quarta generazione non ci fosse una dinamica stretta, ma tutto il contrario. Ok. Perché poi nella quarta generazione, che è quella che io e PC amiamo in assoluto, ci siamo divertiti troppo a farla, andiamo con uno stile di vita che è l'amante dell'adrenalina e siamo a San Maishuno. Mmh. Bello quello. Sì. Ah, come mai a San Maishuno? Sai, pensavo al Monte Comorelli, pensavo. No, no, perché adesso ti leggo il background. Vedrai che adesso anche tu te lo immaginerai là. Ok. Esatto. Sei sempre stato il figlio o la figlia ribelle. Le regole non ti piacciono, anzi, cerchi sempre un modo per infrangerle. Viva l'adrenalina, è il caso di dire. Ti piace fare scherzi e rubacchiare di qua e di là. Non sei proprio l'amico che tutti sognerebbero e a te piace essere così. Vai anche alla ricerca di sport estremi. Insomma, sei un tipo tremendo. L'aspirazione è il modello di malizia. Mmh. I tratti sono cleptomane, testa calda e avventuroso e la carriera è quella del criminale. Mmh. Ah, ci piace. E quindi, ma questa è stata proprio, cioè questa, forse è quella che non vedo l'ora di giocare, perché io non, cioè non ci gioco mai con questi tratti. Perché siamo partite, partite dicendo, cerchiamo di creare qualcosa che abbia degli obiettivi che solitamente non si fanno mai, no? Perché tendiamo sempre a fare la famiglia felice, i figli e questo. E cose tipo criminale o il modello di malizia. Io stessa l'ho esplorata un pochissimo nel gioco, perché non è il mio modo di giocare quello. E quindi ci siamo proprio divertite tantissimo. Ma infatti, conti, è bellissima questa cosa. Eh, vai, vai. Sì, sì, sì. Cioè, almeno fai qualcosa, ecco. No, ma poi vedi anche tutto... Cioè, esplori The Sims, tra virgolette, a 365, no? Esatto. Sì, era quello che volevamo, in realtà. E qua, infatti, puoi avere massimo un figlio e se sono gemelli, ne devi scegliere uno con cui continuare e l'altro lo devi trasferire in un'altra unità familiare. E soprattutto non devi sposarti, quindi devi avere un figlio da single, diciamo, comunque. Se sei un uomo lo devi adottare. Se sei una donna, invece, vai con uno qualsiasi e fai... cerca di avere un figlio. Ok. Ma il partner non viene a vivere con te, quindi? O può? No. No. No, no. No, no, assolutamente. Poi, andiamo... Cioè, da una cosa così... Allora, aspetta, perché c'è Pollicina che dice sono io o non si sentono le voci? Quali voci? Raga, non vi sento, sento solo la musica di The Sims. Oddio. Prova a parlare. Eh, mi sentite? Mi sentite? No, in teoria dovrebbero sentirvi. Prova a refresciare, che secondo me... Eh, sì, eh... Ah, ora sì, a te. Ora non so, non siete a posto. Ok. Scusami, che leggevo. Io vi sento, Ire. Ciao, Ire. Nancy, io sono troppo... Allora, Nancy, tu sei troppo sensitiva, ma sei tu che hai fatto, che hai creato la nostra Don Pasagli, cioè, dove facciamo fuori tutti i figli del nostro sim. Cioè, adesso mi sembra un po'... Non so. Non so, vorrei dire... Leggera. Cioè, abbiamo, insomma, andiamo da... Diciamo che abbiamo cercato di bilanciarle un po', perché poi dopo quella del criminale, ovviamente, il figlio, che cosa potrebbe essere, secondo voi? Eh, non lo so, un santerello? Quasi. Un detective. Ah, giusto, giusto. Quindi, ovviamente, e anche qua, comunque, insomma... Esatto, poliziotto, sì. E anche quello è molto bello come carriera. Sì. Sperando non sia più buggata, ma mi sembra di no. Io ci ho giocato ultimamente e... È buggata? No, sembrerebbe adesso di no, però... The Sims non si può mai sapere, eh. No, ragazzi. Voi, cioè, dopo l'aggiornamento ultimo, quanti problemi avete avuto? Tanti. Mamma mia, tantissimi. Vittemi che non sono l'unica, perché veramente... Mamma mia, raga. No, non sei l'unica. Tantissimi, partendo dai bambini alieni, che si allungano ogni tanto, le amicizie che si cancellano, babysitter che si rubano i bambini, i bambini che fluttuano, lattanti ingestibili. Esatto. Sì. No, allora, adesso... Adesso a me si è un po' sistemato. Si è un po' sistemato, sì. Sì, sì, sì. Però, mamma mia... Ma io, chi è stato lattante, è andato tutto bene. Poi, a un certo punto, è diventato toddler e non ha più voluto dormire. Però la barra diventava rossa. Non so che dire. Oddio, intanto lei, poverina, la chi... Lei puzza, forse, un po'. Perforella. Perforella. Non fa pena. Che vita difficile. Condisce meglio l'insalata, è più saporita. È più saporita. Comunque la donpa sagra è una mia esigenza di sfogare, una vena sadica che altrimenti non sfogo. Ci sa. È questo che serve di sims. Vabbè, ma dopo quattro generazioni? Dopo quattro generazioni diventano cattivi. Ma secondo me ci sta, perché sennò fai sempre lo stesso gameplay, cioè due palle. Anche perché The Sims è un gioco talmente vasto che non riusciresti mai comunque a scoprirlo tutto, perché non fai mai in tempo che esce sempre qualcosa di nuovo e l'attenzione poi va sempre sull'ultima cosa uscita e le cose prima non le faghi più. Tra l'altro, quando ci sarà la generazione 5 che sarà del Sol Valley tra l'altro. Ma c'erano i VIP. Esatto, non lo so, io me lo so immaginato tipo CSI questo qua del detective, capito? Ok. E praticamente, a parte lo stile di vita è caffinomane, perché ovviamente... Ha senso. e poi è comunque la dinamica familiare con il figlio che sceglierete per portare avanti la generazione deve essere severa. Quindi... quindi poi andiamo alla sesta che è Monte Comorebbi. Ok. a proposito, prima chiedevano come cambiare la dinamica familiare. Sì. Ok, allora, per quanto ne so io, dipende dalle interazioni che avete con quel sim. Poi adesso non so dire esattamente che interazioni devono essere, però dipende dalle interazioni. diciamo che per avere un rapporto com'è che viene mai? La dinamica familiare. La dinamica familiare è rigida, devi fare discorsetti ai bambini, gridarli, metterli in punizione, insomma, queste cose. E se non hanno cresciamo insieme per le dinamiche familiari? Non fa niente, devono fare qualcosa altro. Non fa niente. Magari cerchiamo di avere delle interazioni un po' più severe, ecco, diciamo. Ok. Magari una barra dell'amicizia non altissima, ecco. Esatto. Esatto. Perfetto. E potete eventualmente scegliere direttamente la dinamica familiare difficoltosa, insomma, quello che avevo messo severa, direttamente nel CAS. Fate CAS Full Edit Mod perché potete usarlo e impostate direttamente la dinamica familiare da là, volendo. senza fare interazioni? Quindi la posso già impostare e basta. Ok. Sì, quello lo puoi decidere tu tranquillamente se vuoi giocare, vuoi provare a farla così casuale, ok. Se invece non te va, ovviamente fai così, non c'è problema. ci sta. Mi piace. Esatto. sì, perché comunque dai, alla fine ci sta a chi piace magari giocare proprio di più e invece a chi magari vuole un po' di aiuto, diciamo così. E la sesta generazione è una delle altre che io e Picci vorremmo giocare perché è particolare, perché lo stile di vita è tecnofobo. e siamo a Montecomorebbi è tutta incentrata ovviamente su l'aspirazione è il guru zen quindi il simulatino sarà vegetariano che io penso di non aver mai fatto ok vai vai quindi i tratti sono vegetariano buono amante dell'aria aperta e la carriera è il giardiniere e qua praticamente voi non dovete usare la tecnologia oddio no cosa mi stai dicendo cioè non posso usare cioè sei off grid anche esatto praticamente infatti scegli una casa qualunque di qualunque valore ma nei tratti dell'otto deve esserci il tratto fuori dalla rete aiuto e tra l'altro qua vi abbiamo anche dato delle indicazioni per la casa ovvero abbiamo scritto la casa che sceglierai o costruirai deve essere un luogo rilassante quindi avere un'atmosfera tipo quella delle case giapponesi ma scegli tu lo stile che vuoi quindi potete scegliere lo stile l'importante è che sia una casa rilassante che altro dire aspetta che l'ho perso questa è abbastanza tranquilla comunque bisogna avere con il figlio erede diciamo la dinamica familiare spassosa qui esatto sì aspetta nella sesta sì nella sesta bisogna per esempio sabotare aspetta dove l'abbiamo dove l'avevo scritto qua almeno 50 oggetti usando l'interazione sabota oddio non lo leggo ah sì eccolo qua dovete sabotare almeno 50 oggetti usando l'interazione sabota quindi diciamo soprattutto gli oggetti tecnologici diciamo quindi il computer le varie cose della cucina insomma queste cose qua io comincio ad avere la polvere in casa ce la fai ce la fai bronno ce la fai poi la cosa molto carina è che tra gli obiettivi sempre della sesta essendo tu molto zen devi calmare le persone furenti quindi se vedi le persone furenti devi cercare di calmarle almeno 5 se non sbaglio davvero avete pensato a tutto davvero questa cosa comunque aspetta allora ci siamo proprio un po' ingegnate perché poi non è facile trovare le persone furenti così in giro no infatti infatti è bella tosta allora mentre esamina alcuni dei soliti rapporti spese Carol si accorge che alcune righe non sembrano corrispondere ok attraverso ulteriori indagini scopre che somme ingenti di denaro vengono dirottate verso alcuni conti segreti della dirigenza Carol non si è ancora fatta un nome nell'azienda ma questo sembra il genere di operazione che dovrebbe segnalare l'autorità giusto allora Carol guadagnerà fama e reputazione ah però perderà il proprio lavoro eh no scusami eh no non posso eh no perdi i documenti eh vabbè hai finito di niente non è successo niente l'autorità 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 l'autorità